seconda ok lascia una seconda e frena bene, guarda il birino dove è stai a destra dove è col freno finita a frenare finita a frenare frena, frena, frena frena, frena, frena aspetta, aspetta, aspetta non c'è che riguardare i birini le traiettorie stai bene a destra qui perfetto ok, bravi un po' di guide, poi frena in porta il birino là frena metti il mattino, e guide, vai era dritto posso frenare? ok e guarda ok frena forte frena forte ok, sinistra casa larga larga bene a destra frena bene ok ok frena ok non fredda non fredda non fredda non fredda frena, frena, frena pianino, aspetta, aspetta, aspetta ok vai avanti adesso vai ancora avanti tutto dentro tutto dentro tutto dentro tutto dentro ok fermo qua perfetto adesso rischiati tutte e due per mettere in porta provisci a posto ok grazie grazie a te che ti do la schedina ? sch ph hisらい